I consiglieri comunali dell'Unione di Centro, Francesco Sasso, Antonello Usai e Raffaele Salvatore, hanno firmato un ordine del giorno dove impegnano il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutti gli atti necessari per prevedere agevolazioni in materia doneri d'urbanizzazione per chi costruisce riservando una quota d'alloggi alla vendita. Meno tasse per gli imprenditori edili, che riserveranno una parte degli immobili dei palazzi in costruzione, ai giovani appartenenti alla fascia di reddito medio-bassa. I consiglieri evidenziano il disagio abitativo che colpisce soprattutto i giovani e l'obiettivo da parte dell'esecutivo cittadino di risolverlo.